Io a Renzi dico, lui è felice perché quest'anno l'Italia cresce dello 0,7, 0,8, io dico che se al governo avessimo persone normali noi cresceremmo come la Polonia e come la Spagna almeno del 3%, se avessimo uno Stato normale che non ruba in tasse quello che ruba lo Stato italiano.